Sono diversi i vantaggi del cerotto contraccettivo. Innanzitutto l'adesivo viene applicato una volta a settimana riducendo notevolmente le eventualità di dimenticanze e se questo avviene le conseguenze sono minori rispetto alla dimenticanza della pillola. E ancora importantissimo il cerotto proprio perché ci dà un livello nel sangue costante di ormoni perdona una dimenticanza fino a 24 ore nel mettere il nuovo cerotto. Anche questo è un elemento di sicurezza e quindi può essere una scelta eccellente per tutte le donne che da un lato vogliono avere una contraccezione sicura garantita anche nei confronti delle loro dimenticanze o che abbiano delle vulnerabilità per esempio dal punto di vista alimentare per cui è più saggio dare una via più sicura. Infatti a differenza dei tradizionali contraccettivi orali il cerotto anticoncezionale non prevede il passaggio attraverso il tratto gastrointestinale e di conseguenza la sua efficacia non viene ridotta da disturbi gastrointestinali come la celiachia. Tutte queste intolleranze alle farine, al glutine o al lattosio comportano uno stato infiammatorio della parete intestinale. Quindi in caso di intolleranze alimentari che sia il glutine, che sia una gluten sensitivity, una celiachia franca o un'intolleranza al lattosio è più saggio utilizzare una via non orale.